Si ha telefonato Moji se volevo fare questa partita e dico, vabbè Luciano, io vengo volontieri ci mancherebbe altro è stata anche una satisfazione non posso dire che ho vinto perché io sono stato, diciamo, invitato per giocare l'ultima partita hanno vinto quello che hanno fatto sicuramente tutto il torneo era l'ultima opportunità di mettere addosso la maglia del Toro come è capitato nel 90 e poi